10 5 4 3 2 1 via destra 3 lunga apre occhio eh 50 e attenzione sinistra 2 più 50 accenno destro per destra 6 lunga destra 6 lunga tienila per imposta sinistra 3 corta e sinistra 4 vai due tempi attenzione destra 2 subito eh qui e imposta la rei sinistra 5 vai 100 accenno destro 50 imposta sinistra 4 più suddosso e accenno sinistro 50 sinistra 4 vai per destra 4 per sinistra 4 e sinistra 4 suddosso chiude eh occhio 30 scala scala sinistra 2 sale qui eh fammelo a modo eh 100 sinistra 5 50 50 destra 5 100 e molta attenzione ritarda la destra 4 meno 100 via e attenzione virtual è ora stacca 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 forte stacca forte 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 via 50 stai sinistra accenno destro e in sinistra 3 più sinistra 3 più 100 e attenzione di nuovo è la virtual stacca forte 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 ora vai sinistra 3 e attenzione qui al dosso destra 3 meno taglia 50 c'è un sinistro lunghissimo tienilo perché attenzione dosso destra 4 più c'è 30 destra 3 più e destra 3 meno tienila in sinistra 3 meno meno sinistra 3 meno meno 50 vista destra 5 subito sinistra 3 più due tempi via lascia e qui dentro via 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 c'è 50 destra 5 diventa 4 diventa 4 alla pettuccia e tienila qui destra 5 diventa 4 allargati qui tienila e destra entra in cicada sinistra dai dai sei tutto di qua via dentro destra 5 sinistra 5 vai adesso entra nel parcheggio sinistra 2 e destra 2 usa il freno a mano sinistra 3 vai 100 dosso dritto 50 a destra 2 apre e accendo sinistro 50 sinistra 4 vai vai tranquillo sinistra 4 ancora e al cartello sinistra 4 tieni e subito tornante destro aiutati con la leva qui 100 vai accenno destro tieni lì a rovescio accenno destro tieni e sinistra 4 meno due tempi qui ti butta fuori il primo vai ora per il secondo apri apri 100 destri e accenno sinistro per accenno destro e sinistra 4 più tieni e subito destra 2 via sacca bene eh qui via 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 50 sinistra 4 vai 100 sinistra 2 gira mi raccomando eh destra 4 più lunga via 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 50 50 destra 4 suddosso e accenno sinistro diventa 5 50 più accenno destro per destra 4 meno qui eh lascia e qui destra 4 meno via per sinistra 3 più per destra 5 vai 150 molta attenzione accenno sinistro diventa cartelli sinistra 3 eh e due tempi eh qui via qui ancora sinistra 3 50 destra 3 30 così fa le belle tonde sinistra 2 50 via la vedi che le imposti meglio ritarda la destra 4 più diventa 2 meno non sta troppo largo che scivola si apre la corda vai bravo Rick grande bravo fatta meglio eh non è più forte speriamo 5 e 31 buona cici